Bomba estrema al GF VIP 7 su Jaele de Dona. Durante l'ultima puntata Alfonso Signorini ha voluto mostrare all'ereditiera una clip al vetriolo. Nel video vediamo Cristina 40 che rivela un dettaglio molto piccante sul compagno di Jaele, Brad. Queste le sue parole in diretta tv. Il marito di Jaele è venuto nel ristorante in cui lavoro. Era con due uomini e sette donne. L'aspetto di queste donne no comment. Dopo aver visto il video Jaele, anche se visibilmente infastidita, non ha voluto darla vinta a nessuno e ha affermato non ci sono rimasta male, però dopo tutti questi mesi vorrei che mio marito venisse qui a trovarmi. Tra la De Dona e la 40 pare non scorra proprio buon sangue. Infatti l'ex showgirl non tarda a replicare. Non ti ho mai sentito parlare di tuo marito in quattro mesi. Ti ricordi il pin della carta di credito? Non servirà più a nulla secondo me. Puoi anche stracciarla. A questo punto i toni sono diventati pesanti e Jaele decide di surclassarla e risponde. Amore, quando esco ti porto a cena e a fare shopping. Amore, quando usciamo da qui ti offrirò una cena tua di porto a fare shopping. Tesoro, non ho bisogno di fare shopping. La superficialità non mi interessa. La lascio a te. Insomma, una lite che sembra interminabile fin quando Jaele non decide di chiudere il microfono, spazientita. La fine di una polemica o solo l'inizio? Lo vedremo.